Grazie a tutti per presentare, ma addirittura l'hai destampato! Chi sofferti? La teataccia di un'altra? La teataccia di un'altra? A buona, a buona! Questo è amore! Questo è un attacco in camera! La sensazione sportiva è diventantissima un cuore! Io ve lo so! L'illustria ha un chiamito premio a Badogli Award 2011, una seguente motivazione, un immobile portatore di intramontabile ottimismo, interpretavano veramente il pensiero Badogli a posto! Tra doppie vittime! Non dà neanche l'errore di battitura, era neve, era anche il presidente che non c'è, il bravo il ma... Il presidente! Aspetta, facciamo la... Il presidente è il tempo! Quindi ce la becchio! Aspetta, io te lo prendo con la mano sinistra! Aspetta!